Questa sera siamo qui per parlare di una importante associazione, di un importante evento che appunto questa associazione farà domenica prossima al Teatro Sociale di Como. Per parlarne Daniela Barattieri, presidente di CHO che sta per Como, Ematology and Oncology. Ciao Daniela, grazie. Ciao, buonasera. Ciao, buonasera a tutti gli ascoltatori. E poi Anna Veronelli che è consigliera di CHO ma anche presidente del Conservatorio. Buonasera. Buonasera Anna, ciao, grazie. Daniela, inizi tu. Allora, il Natale di CHO, adesso faccio vedere anche la locandina, il Natale di CHO è da sempre contraddistinto da questo evento che è domenica, giusto? Sì. Eccolo qua. Siamo arrivati alla non edizione del nostro Natale che si è svolto in tutte le edizioni in maniera diversa ma sempre nell'ottica di affrontare, di intraprendere un percorso musicale da offrire a tutta la cittadinanza e a tutti coloro che ci sostengono durante l'anno, durante, per le nostre attività, per le nostre iniziative e quindi quest'anno sarà un bellissimo spettacolo. In ricordo di Puccini perché ovviamente ricorre l'anniversario. E come tale abbiamo pensato di fare qualcosa di speciale. Non sarà la solita opera, non sarà soltanto musica, non saranno soltanto canzoni, arie. E infatti ho visto nella presentazione c'è anche musica, canto ma anche racconti quindi si spazia ed è un programma sicuramente molto vario, c'è una finalità importantissima, lo diciamo tra poco. Prima spiegami e poi passiamo ad Anna che cos'è CHO. CHO è un'associazione che nasce nel 2012 all'interno dell'ospedale Valduce di Como, è una permettersi a totale utilizzo e servizio del malato oncologico. Malato oncologico che passa nei reparti dei hospital oncologico e nonna e dei propri familiari, quindi offriamo dei servizi molto semplici ma che sono molto d'aiuto. Un supporto, Daniela, è corretto, un supporto anche psicologico importante perché poi chi si trova in una situazione di questo genere, ecco. Quindi un supporto che voi date all'interno del reparto dell'ospedale Valduce di Como. E poi infatti tra poco vengo ancora con te, Daniela, perché il progetto che avete identificato quest'anno è relativo, ovvero, a un progetto che si rifolge proprio all'interno dell'ospedale Valduce. Si chiama Musica in Reparto, ma ne parliamo tra poco. Prima Anna, vediamo anche due indicazioni ancora perché il costo del biglietto è di 10 euro, no? Ma ci sono ancora dei biglietti, quindi lo scopo è di fare un bel teatro sociale pieno. Sì, noi vorremmo esaurire tutti i posti del nostro meraviglioso teatro. Domenica pomeriggio alle 17, accadde alla prima è il titolo di questo recital, perché verranno raccontate le prime volte delle prime delle meravigliose opere di Giacomo Puccini, del quale ricorre quest'anno, lo sapete, il centesimo anniversario della morte, quindi è un modo per tributargli un omaggio. E verranno raccontati in retroscena che cosa successe quando per la prima volta andò in scena Turandò o La Bohème, sarà il modo per vivere come se fossimo stati lì, a questo momento così speciale, perché io pagherei per poter essere stata presente quando Puccini ha messo in scena le sue opere per la prima volta, e ci racconteranno dei narratori straordinariamente preparati, perché vivono di teatro e di opera professionalmente, insieme a musicisti dell'orchestra polifonica sforzesca e a cantanti che hanno fatto parte del cast dei principali teatri italiani, del teatro alla scala in particolare, ma non solo, per cui sarà un racconto in parole, in musica e in canto, un omaggio a Puccini che emoziona me personalmente, ogni volta che lo ascolto, ma credo tutti quelli che un po' lo conoscono sanno che sa toccare le corde più intime del nostro cuore e per chi non lo conosce questa è un'occasione da non perdere, perché non è un'opera che magari spaventa chi non frequenta questo genere di musica che dura un'ora e mezza o due ore, ma è un recital in cui si converserà e si reciterà, perché ci sono degli attori che reciteranno, e sarà una recitazione in forma scenica, perché ci hanno detto giustamente che con un teatro bello così noi lo riempiremo di arte questa sera. Il biglietto costa 10 euro, ci teniamo a dirlo, l'intero ricavato di questo recital servirà a sostenere un progetto che CHO ha deciso di donare a tutti quelli che frequentano il reparto di oncologia dell'ospedale Valduce, è già stato fatto un esperimento, un test per vedere che impatto avesse questo tipo di attività, perché lo scorso anno, l'anno accademico che si è appena concluso, ha visto la collaborazione dell'associazione CHO e del conservatorio, in particolare, meravigliosa la voglio citare, il maestro Claudio Abraco, che ha creduto dal primo secondo in questa iniziativa, insieme al direttore Vittorio Zago, che colgo l'occasione per ringraziare, sono stati eseguiti sette concerti una volta al mese nel reparto di oncologia. Ecco, questo è molto importante. E io ho visto quello che succedeva in quel momento. Ce lo facciamo raccontare da Daniela intanto, e poi torniamo con te Anna, aggiungiamo, sì, ecco, nei commenti mettiamo anche l'indirizzo per l'acquisto dei biglietti, che è il sito ufficiale di CHO, ma anche... No, no, è la biglietteria fisica del teatro sociale, la biglietteria online del teatro sociale. Ho sbagliato, infatti stavo vedendo adesso. Comodissimo, per cui o ci andate personalmente o potete prendere i biglietti anche online. Allora, anche online, sempre però sul sito ufficiale del teatro sociale. Allora, il ricavato, Daniela, come diceva giustamente Anna, serve per supportare questo progetto. Il progetto si chiama Musica in Reparto all'interno degli hospital oncologico dell'ospedale Valduce. Ecco, parlami un po' anche di questo progetto, che ovviamente va a continuare quello che mi dicevi prima, che cos'è CHO, che cosa avete fatto in questi anni, e ovviamente questa è un'ulteriore iniziativa. di aiuto alle persone che vivono un particolare e critico, magari, momento della loro vita. Certo, questi concerti sono eseguiti, vorrei sottolineare, da ragazzi molto motivati, che fanno a gara, così sembra, come è stato riferito dalla loro professoressa del conservatorio, fanno a gara per venire a suonare. Quindi concerti che possono essere di archi, di fiati, si sono un po' diversificati. Il bello di questo evento è che per alcuni momenti le persone che sono in terapia, in chemioterapia, con l'ago nel braccio e ci stanno per otto ore al giorno in ospedale, si svagano, non pensano alla loro situazione e questo ha detto anche di loro, nel senso che a cui ho chiesto un commento, mi hanno sempre detto, per alcuni momenti ci siamo scordati di dove siamo. Esatto, è una sorta di estragnarsi, cercare di appunto non pensare, allontanarsi, estragnarsi da una realtà che invece poi li riporta chiaramente alla chemio, come dicevi tu, all'interno del reparto di oncologia dell'ospedale Valduce di Comun, ma è un momento importante, lo dicono anche i medici, lo dicono anche gli esperti, no? Questo momento, come la pet therapy, come altri tipi di supporto, funziona e dà un contributo, giusto Daniela? Certo, è un momento arricchente, sia per i pazienti, sia per gli accompagnatori dei pazienti, sono i familiari, ma soprattutto anche per i ragazzi e devo dire che io ho assistito a delle esibizioni e mi è venuto la pelle d'oca, non soltanto per la bravura dei musicisti, ma perché pensavo a quello che ha trasmesso a me in quel momento, quindi potevo immaginare cosa trasmettesse alle persone più sfortunate di me. Esattamente, lo scopo, il ricavato è proprio questo. Anna, so che ci tieni tanto, anche tu, giustamente a valorizzare, far conoscere anche CHO, che è al pari di altre realtà che abbiamo proprio trovato in questa settimana. Cito accanto, la ONLUS accanto, che anche lì fa un lavoro pazzesco, eccezionale, per l'hospice di San Martino e anche lì mi diceva la scorsa settimana Gisella Introzzi che è venuto a trovarci, no, eh sì, non tutti ci conoscono, ecco, anche CHO nella sua nicchia, no, è bella, è importante, però non tutti fosse occhi, quindi è giusto farlo conoscere. Io ho l'occasione per ringraziare i volontari di accanto, sono stati accanto al mio papà, all'hospice di San Martino e purtroppo di queste associazioni che hanno come missione sostenere chi soffre, si accorge direttamente chi ci passa, chi passa per l'hospice o chi passa per il reparto di onquematologia, i nostri volontari, i volontari di CHO sono presenti in reparto e servono il tè, che è l'occasione non solo per scaldarsi le mani con una bevanda calda, ma per un sorriso, una parola di conforto. Oppure i nostri volontari hanno preso la panda che ci è stata donata dall'associazione Cancro Primo Aiuto e sono andati a portare le provette degli esami che erano stati effettuati sui pazienti, che i pazienti stessi avrebbero dovuto portare in ospedale a Milano al laboratorio di analisi e sono andati al posto loro a portare le provette. Oppure CHO, grazie alle donazioni che riceve, io ne approfitto anche per ringraziare gli sponsor che sostengono il progetto di domenica, senza di loro non saremmo riusciti a realizzarlo, c'è il patrocinio della provincia, c'è il patrocinio dell'ospedale Valduce e anche del Rotary, ecco esatto, Rotary Como, Rotary Como e una serie di sponsor che sono citati sul volantino, magari se li inquadri non li racconto, ma li siamo grati di cuore perché grazie a loro noi riusciamo a fare stare bene chi attraverso un momento di grandissima difficoltà che è la cura da una malattia che si può sconfiggere, ma quando la stai attraversando è veramente dura. Dicevo Anna, ci sono anche i nostri amici pescatori Alfa, che saluto. Esattamente, meravigliosi, meravigliosi. Eh lo so, eh lo conosco, il presidente. Cuore grande, hanno un cuore grande. Caro Luca, un saluto anche a Luca Arcobert. No, 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 i pescatori sono da sempre pescatori Alfa, sono sempre vicini a delle associazioni e a delle iniziative di carattere sociale, li conosco quindi da tanti anni e posso dirlo a ragione assolutamente. Fa piacere che si sono spesi anche questi sponsor, poi c'è il patrocinio provincia, Valduce e Rotary perché CHO rappresenta davvero una bella lealtà. Sì, credo che ha dimostrato pur nel silenzio dell'agire quotidiano dei nostri volontari che sono lì in reparto. Perché questa è come giustamente dicevi Anna, quella realtà silente ma concreta che fa, operosa, il comasco, che fa, non ha bisogno sempre a volte di farlo sapere, però è anche giusto che si dica chi è, chi cosa fanno, quotidianamente in silenzio lo fanno sempre, tutti i giorni, ci sono, ripeto, accanto, ci siete voi e altre associazioni che abbiamo proprio incontrato nel corso della scorsa settimana. Per esempio CHO negli anni ha cofinanziato insieme all'ospedale Valduce la presenza dello psiconcologo che ha una preparazione specifica per supportare i malati oncologici ma anche per prendersi cura dei loro familiari. E quindi si può fare la differenza con un'associazione che non ha scopo di lucro, è un'organizzazione di volontariato fatta da volontari, ricordo che dell'associazione fanno parte volontari che magari sono stati pazienti curati al Valduce ma fanno parte anche medici e ricercatori dell'ospedale Valduce, c'è un gruppo eterogenio di persone che ha a cuore, come dire, che si prende cura di chi si prende cura. E allora signori, questo è lo scopo importante, ringraziando appunto Anna e ringraziando Daniela e lo scopo è di dire allora però, visto che c'è questa bella iniziativa che li coinvolge e che si prefigge di dare un aiuto concreto a CHO, poi appunto comincia a vivere senza scopo di lucro quindi tutti i soldi, Daniela, che riceverete vengono utilizzati. Verranno utilizzati in questo caso, in questo progetto, però vanno poi anche a finanziare i progetti che vanno in continuità da anni. Ecco, quindi l'invito è di esserci. L'invito è di esserci, di essere presenti e di condividere con noi il Natale. È sempre stato un grande successo quindi speriamo che anche quest'anno lo sia. Perché no, assolutamente. Lo spettacolo è molto interessante. Grazie Daniela di essere venuta a trovarci e spero davvero di poter avere anche un riscontro importante domenica, Anna, alla fine dello spettacolo. Vi aspettiamo che tutti quelli che verranno passeranno un pomeriggio delizioso e consentiranno di suonare la musica in reparo. Poi ricordatevi domenica c'è davvero di tutto, c'è l'accensione dell'albero, ci sono le luminarie, c'è insomma tante cose che potete fare dopo essere andati al teatro sociale. Prima avete fatto un giro in centro, venite al teatro e quando uscite è buio e ci sono le luci e questa è una tradizione. Quest'anno non è successo perché le hanno accese una settimana prima, addirittura novembre insomma e non il primo dicembre. Ma le proiezioni le accendono forse domenica. È capitato spesso che noi abbiamo fatto un concerto a San Giacomo e usciti in quel momento hanno acceso le luci, insomma un'emozione grandissima. Anche a Palazzo Terrani stessa cosa. Stessa cosa e quindi è proprio Natale. È Natale e c'è il Natale di CHO. Non può essere il Natale di CHO senza questo appuntamento classico ormai al teatro sociale. Grazie Anna di aver raccontato una piccola parte di questa storia bella di como ematologi ed oncologi. Grazie Daniela. Grazie a te. Perché anche questa è una realtà che i comaschi è giusto, che sappiano e che possano apprezzare perché avete dato davvero tantissimo. Grazie quindi vi aspettano, meritano sicuramente un aiuto e un contributo da parte di tutti i comaschi. Ciao Daniela, ciao Anna, grazie. Noi ci fermiamo qua.